La Juve torna alla vittoria in casa del Genoa e soprattutto, udite udite, Dusan Blaovic torna al gol. Ne segna addirittura due, ma se ne mangia uno forse addirittura più facile nel finale. Comunque, sette e mezza Dusan Blaovic, voglio essere buono oggi. Almeno comincia a guadagnarsi i dodici milioni netti a stagione di stipendio che si mette in tasca. Non bastano ovviamente questi due gol col Genoa per guadagnarsi lo stipendio, ma comunque rispetto al solito è già qualcosa. Sette a Tiago Notta, che è bravo a cambiare la posizione di Copp Miners all'intervallo. Da lì di fatto la partita svolta, sei e mezza Copp Miners, che serve l'assist del 2-0 a Blaovic. Poi però si mangia un gol da 0 metri cogliendo la traversa perché la colpisce male col suo piede, stavolta il sinistro. Però, insomma, nel complesso una buona prestazione. Bene, Francisco Coisesau quando è entrato, sei e mezzo, ha dato ulteriore vivacità. Sei a Hildiz, secondo me troppo largo, troppo lontano dalla porta, però si fa sempre apprezzare in un modo o nell'altro. Benissimo Caloulu, sei e mezzo, e Bremer sei e mezzo anche lui, meno bene Danilo, cinque e mezzo, e bene Fagioli, sei e mezzo, Douglas Ruiz molto bene quando è entrato, tra il sei e il sei e mezzo anche per lui. E, insomma, finalmente una vittoria che mancava da tre partite è arrivata.